Il Paradiso, finale di stagione, Ezio potrebbe scoprire di Veronica e dirle addio. Cosa succederà nel finale di stagione del Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 nel corso della prima settimana di maggio? Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Ezio Colombo. Il quale dopo aver assistito all'addio di Gloria, potrebbe scoprire la verità su quanto è accaduto a sua insaputa. Ezio non è a conoscenza del ricatto che Veronica ha messo in atto nei confronti della sua ex moglie. Al punto da costringerla a lasciare Milano e trasferirsi in America da sua figlia. Nel dettaglio, il finale di stagione del Paradiso delle Signore 7 rivela che ci sarà spazio per le vicende di Casa Colombo. Dato che Ezio si ritroverà a dover affrontare ancora la spinosa questione legata alla gravidanza di Gemma e in più farà i conti anche con la partenza del tutto improvvisa di Gloria. Dopo il ritorno di fiamma che c'è stato tra i due, la mamma di Stefania annuncerà la sua decisione di volersi trasferire in America. Dove intende ritrovare un po' di serenità e stabilità assieme a sua figlia. Una decisione che ha lasciato spezzato Ezio, ignaro però di quello che è realmente accaduto alle sue spalle. Nel corso dei recenti episodi della SOP trasmessi su Rai 1, infatti, Veronica ha scoperto tutta la verità sulla tresca clandestina che si è venuta a creare tra Gloria e Ezio. La donna ha avuto la certezza che stava cercando, legata ad una relazione in corso seppur clandestina, tra i due ex coniugi. A quel punto non si è fatta problemi ad affrontare Gloria, mettendola alle strette e inchiodandola alle sue responsabilità. La reazione di Veronica è stata particolarmente dura, al punto da ricattare la donna e chiederle di sparire dalla sua vita e da quella di Ezio. Insomma, Gloria si è ritrovata alle strette e al cospetto di questo ricatto, ha scelto di lasciare definitivamente Milano e trasferirsi in America. Dove avrà modo di ritrovare sua figlia? Ebbene, la verità su quanto è accaduto tra Gloria e Veronica, potrebbe venire fuori nel corso del gran finale di questa settima stagione del Paradiso delle Signore. Non si esclude, infatti, che Ezio Colombo possa scoprire l'inganno della sua promessa sposa e quindi venire a conoscenza del ricatto che ha messo in atto i danni della mamma di sua figlia. Al punto da costringerla alla partenza immediata. A quel punto, la situazione potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata, non si esclude. Infatti, che Ezio possa decidere di truncare e chiudere definitivamente con Veronica. Dato che ormai il sentimento nei suoi confronti è già in parte scemato. Al momento comunque questa è solo un'ipotesi. Che non emerge dalle anticipazioni ufficiali dello sceneggiato. Che stai che dupo trimi ciocanul mare, in spre cer si dau jos carul mare, astrologia-l treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos patescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, decât mai toți ziceau că muzica a pus cu rapul. Și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda.